Non è semplice comunque, nel mio caso ti parlo di me per esperienza personale, non è semplice salire in pedana a un mondiale dove tu alzi lo sguardo e c'hai tutta la platea che ti sta guardando, c'hai tutti i riflettori puntati e sei solo là, non puoi contare su un altro, perché non è uno sport di squadra, quindi se tu fai l'errore, sbagli tu e poi la conseguenza te la prendi tu, non puoi dire colpa sua. Il timore dell'errore esiste in te? Adesso l'ho debellato, ho avuto un periodo, non un periodo, anzi c'è proprio una gara dove io ho cambiato tanto questa cosa, che è stato il primo mondiale che ho vinto, io sono partito a Las Vegas per questo mondiale, che ero l'unico atleta dell'Italia, perché essendo una trasferta molto costosa, la federazione ha voluto puntare su qualcuno, su un atleta che comunque potesse ambire alla vittoria, quindi hanno deciso di portare solo a me. Quindi tu immaginate a me, a 17 anni, che mi ritrovo a Las Vegas, dall'altro capo del mondo, con tutta la responsabilità addosso, perché io non dovevo andare là a vincere, perché loro questo volevano, mi avevano portato per questo, avevano speso una barcaccia di soldi perché io dovessi vincere. Quindi io mi sono salito in pedana con l'ansia di Bastiano, perché Bastiano non lo dice, però lui è ansiosissimo quando prima delle gare. Ho visto i fuori onda. Lui non lo dice, ma lo dimostra. Cioè una persona come me, che ormai lo conosco da dieci anni praticamente, se ne accorge. Quindi avevo l'ansia di Bastiano che mi pressava perché ogni minimo dettaglio era in panico. L'ansia di andare male in gara, quindi fare una figuraccia alla federazione e a me, perché comunque sei l'unico portabandiera dell'Italia, quindi ti senti tante responsabilità. E ti dico che è stata la gara dove io più mi son cagato addosso.